Si è concluso con 10 condanne e pene variabili dai 16 ad un anno e 6 mesi di carcere ed una assoluzione il processo con rito abbreviato celebrato dal GUP Antonio Battaglia scaturito dall'operazione denominata Filo Rosso condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla DDA di Catanzaro nel giugno 2017. Gli imputati erano accusati a vario titolo di associazione delinquere di stampo mafioso, estorsioni, intimidazioni e spaccio nel comune di Lamezia Terme. Il GUP ha condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione Gianluca Giovanni Notarianni, a 12 anni Saverio Giampà, a 10 anni e 8 mesi Pasquale Notarianni, 9 anni per Luigi Leone, 9 anni anche per Giuseppe Cappello, 8 anni e 4 mesi per Michele Bentornato. Ha 3 anni e 8 mesi e la conferma invece della condanna Fabio Vescio, un anno e 6 mesi per Michael Mercuri, un anno e 8 mesi per Roberto Castaldo, 5 anni e 4 mesi per Alberto Giampà. Assolta soltanto Alessandra Folino. Per quanto riguarda le parti civili sono stati riconosciuti 60.000 euro di risarcimento al comune di Lamezia Terme e 10.000 euro all'associazione anti-racket Lamezia. L'operazione Filorosso aveva portato il 28 giugno 2017 all'arresto di 9 persone ritenute appartenenti alla Cosca Giampà. In particolare Gianluca Giovanni Notarianni e Pasquale Notarianni, che si trovavano ai domiciliari, coadiuvati da Saverio Giampà secondo gli inquirenti, avrebbero ripreso l'attività criminale della Cosca, vessando e intimidendo gli imprenditori lametini. In particolare Gianluca Giovanni Notarianni e Pasquale Notarianni e Pasquale Notarianni e Pasquale Notarianni,